eccola che aveva fatto la domanda sulla gazzella mica con la spina dorsale proprio dobbiamo cominciare sai giulia tra le tante ricchezze di questo gruppo che abbiamo dottori psichiatri veterinari in compri ci manca un antropologo sarebbe utile un bel chiero Angela che ci spiega le cose ma il Piero non Alberto sei una di quelle che dice che lo considero un gran figo molto sensuale allora qui si sta andando a caccia la Giulia ha detto che è pronta a cibarsi della carne cruda davanti a tutti per sporcarsi di sangue il viso e la bocca cibarsi Max è quello più in tono con la maglietta t-shirt mimetica e poi chi c'è dietro? c'è la Claudia adesso vediamo cosa caceremo facciamo una scommessa gazzelli, uccelli secondo me gli oditori mi ha visto appeso anche una testa di una gazzella con la spina dorsale ancora attaccata dietro sembrava predatorio mio ha preso qualcosa? no l'aria ha preso cazzo ha fatto uno scatto ha fatto uno scatto ha fatto uno scatto e ha sentito una risposta cazzo è un mango acacciato mi avevi illuso credo che lui avesse già azzecchiato qualcosa ma cos'era? avete visto? ha fatto uno scatto all'argo nel fronte fantastico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non si vede il veterinario, non ha paura. E fu così che dopo il ritorno dall'Africa eravamo in grado di cacciare. E' uno dei compiti della coordinatrice, no? Portarla a cena per il gruppo, giusto? Vamos, vamos. Avanti, avanti, attenzione. Attenzione, attenzione. Abbiamo anche un bambino, eh? Attenzione. Ci siamo? Ale, ci siamo, eh? Ci siamo? Quindi nessuno ancora ha scheggiato la roccia. Soddisfatta? Soddisfatta? Sei pronto? Sei pronto o non sei pronto? A me sembra pronto. E' pronto? Guardalo. E' pronto, è pronto. E' pronto? Attenzione. Bravo, ma. Ma tu l'avevi fatto? Prima ha spaccato l'arco. C'è anche la finita. C'è anche la finita. Dov'è Mirio? No, in basso. E togliete il video davanti alla... Ficchia. Quella, madame.